Salentino gira mondo con una passione infinita per il pallone, con una voglia matta di inseguire i propri sogni, prima da protagonista in campo, poi da regista in panchina. Questo era Mario Russo, così sarà ricordato. Un improvviso malore lo ha portato via per sempre in una calda giornata di inizio estate. Se n'è andato ieri nella sua lecce, all'età di 69 anni, molti dei quali trascorsi proprio del mondo del calcio. Ha indossato 9 maglie da calciatore, era un centrocampista di qualità e quantità, ha allenato diverse realtà del sud Italia. Il tecnico Salentino, l'avventura più bella e senza dubbio quella legata al biancazzoro dell'Andria, era la stagione 91-92 quando alla guida di una squadra rimasta inevitabilmente nel cuore degli andriesi, riuscì a condurre la Fidelis di Pepino Fuzzo alla prima storica promozione in Serie B. Indimenticabile fu quell'ultima giornata di campionato quando la sua squadra vinse il Degli Ulivi contro il Chieti con un gol di Raffaele 40 e festeggiò da seconda classificata il salto di categoria attendendo per interminabili otto minuti la fine del match tra Barletta e Perugia. Il mezzo passo falso degli Umbri al Puttilli finì 1-1 permise proprio alla Fidelis di operare il sorpasso in graduatoria. Abbiamo dovuto soffrire oltre ai nostri 90 minuti anche questi altri otto a testimonianza di come è stato duro questo campionato. Voglio dire soltanto una cosa che non l'abbiamo vinto oggi il campionato, il campionato l'abbiamo vinto durante l'arco dello svolgimento perché abbiamo fatto un grande campionato. Da calciatore Mario Russo ha mosso i primi passi nella squadra della sua città e transitato da Roma a Sponda Giallorossa prima di esordire in Serie A con la Lale Rossi Vicenza. Nella massima serie ha giocato un campionato da titolare a Terni. C'è tanta Puglia anche della sua esperienza da tecnico. Squinzano, Nardò, Martina, Monopoli, Casarano, Barletta alla guida di una squadra che ottenne la salvezza sul campo in C1 prima del fallimento. Tricase sarà ricordato come un allenatore rigido stile anni 90 ma anche come un personaggio di grande spessore caratteriale ed umano con l'incredibile capacità di saper motivare i suoi ragazzi, in particolare i più giovani. Oggi i funerali nella sua Lecce presso la parrocchia San Domenico Savio per l'ultimo saluto ad uno dei protagonisti di un calcio in cui i valori umani contavano più dei soldi. Un calcio, insomma, che ormai non esiste più. Grazie a tutti.